Bene, salve a tutti e a tutte. Come al solito non ci vediamo tutti insieme, almeno è difficile avere una panoramica tutti insieme. Io sono Ugo Biggeri, sono uno dei fondatori della Scuola Capitale Sociale, una scuola che cerca di fare formazione con metodi partecipati. Quindi abbiamo a breve anche dei corsi in partenza, uno sarà un corso che è la ripetizione di un corso l'anno scorso che era andato molto bene sul fare impresa con la finanza etica, parte il 23 di settembre, poi sarà anche il 27, il 30 di settembre e il 7 ottobre, dalle 17 alle 19 e 30. La mia esperienza prevalentemente nel mondo della finanza etica, perché sono stato presidente di Banca Etica e sono tuttora presidente di Etica SGR, però ho sempre avuto anche la passione per la parte più di formazione o se vogliamo di didattica. Oggi abbiamo una breve lecture, finiremo tra mezz'ora, con Matteo Di Bartolomeo proprio sul tema di etica e impresa. Chiedo a Matteo di presentarsi. Sento un cagnolino. Matteo Bartolomeo, senza il D, ma io ho cominciato a occuparmi un po' di temi di sostenibilità quando mi sono laureato in economia, facendo una tesi su economia dell'ambiente, come potete immaginare, erano moltissimi anni fa, ai tempi avevo avuto un sacco di difficoltà a trovare una sponda in università, qualche professore interessato al tema, ma poi insomma l'economia dei beni pubblici dà qualche appiglio anche teorico all'economia dell'ambiente. Poi ho lavorato sempre sui temi di ricerca e ricerca applicata nel mondo della sostenibilità e nel 97 con alcuni compagni di un corso, di un master che facciamo all'estero proprio sulla economia e gestione dell'ambiente ho aperto una società che si chiama Avanzi, che vive e lotta insieme a noi, quindi l'anno prossimo sarà 25 anni, che è un tratto di strada incredibile, impensabile allora, fa un po' impressione anche guardarlo col senno di poi o senno del durante e questa società si occupa sempre di temi di sostenibilità e di innovazione sociale con vari strumenti, è una società che ha cambiato pelle tante volte, pur rimanendo molto ancorata alla propria missione iniziale e oggi ha un incubatore anche di imprese innovative sotto il profilo sociale o ambientale e ha un fondo di investimento, un fondo a impatto che io coordino, è una bellissima avventura con i miei colleghi e questo fondo ha raccolto anche un forte interesse da parte del gruppo Banca Etica e quindi un fondo oggi copromosso da Avanzi e da Etica SGR e che guarda proprio alle imprese anche che si affacciano magari tra altre ragioni alla banca, al gruppo Banca Etica ma anche ad altre banche e che avviano quell'intenzionalità forte di risolvere qualche problema e qualche contraddizione della contemporaneità. Ecco appunto, la lecture di oggi è su Etica di impresa e appunto un po' l'esperienza mia è stata quella di una banca in cui si cerca di valutare l'impresa da un punto di vista etico, però poi il processo contrario, ovvero sia un'impresa che decide di nascere o decide di trasformarsi facendo attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, beh non è così scontato. Se un imprenditore oggi vuole occuparsi di sostenibilità, beh alla fine non è che poi trovi chiaramente, al di là di alcuni, di tanti esempi buoni che ci sono, però che trovi chiaramente delle strade da apprendere. Quindi che indicatori seguire, che cosa vuol dire, come metto i miei principi etici dentro la mia mission di impresa, eccetera, eccetera. Ecco, Matteo, diciamo da questo punto di vista è un po' complementare la mia esperienza perché invece ha sempre lavorato con imprese o con start-up di imprese in cui magari fin dall'inizio, comunque abbastanza presto, il tema anche del perché facciamo qualche cosa, al di là del fatto imprenditoriale e del profitto, è importante. Quindi ti chiederei, Matteo, ma si può coniugare etica-impresa o comunque si rimane sempre in un ambito in cui l'impresa viene prima dell'etica? Io sono fermamente convinto che questi siano ambiti e anche termini che si possono coniugare, quindi non rappresentano uno simbolo. Cerchiamo e cerco di declinare un po' questo rapporto guardando più aspetti. Tu hai citato il perché, che mi sembra molto molto importante e su cui magari torno più avanti. C'è il cosa, naturalmente, di cosa si occupa quell'impresa e questo magari definisce un campo di azione, un campo di attività, pensate a servizi sociali per soggetti svantaggiati. Questo è un cosa ovviamente che da un punto di vista dell'etica è molto forte. ci sono tanti cose che invece sono molto neutrali sotto il profilo etico oppure ci sono anche delle cose che sono quasi in contrasto. Pensate a un'impresa che produce armi. L'impresa poi magari di fronte anche ai rating di agenzie che guardano gli aspetti non finanziari, dirà ma sono armi per la difesa e non per l'attacco. Non so, possiamo disquisire a lungo. Comunque il cosa ovviamente non è neutrale, però trovo che molto spesso per provare a dare una risposta alla domanda che facevi tu, Ugo, ci si concentri anche un po' troppo su che cosa. Il cosa rischia anche di essere un'allibita al volto. Io potrei avere anche, ma essere di fronte a un'impresa che si occupa di prove in sociale, appunto facciamo il caso, poniamo a caso dei soggetti svantaggiati, ma in verità agisce sfruttando i propri lavoratori o agisce con un salary gap, come viene detto oggi, quindi la differenza di stipendio tra le persone neoassunte e le persone che hanno ruoli apicali con un gap straordinariamente ampio. Quindi il come interviene, se dovessimo non solo giudicare, ma anche intraprendere un'attività imprenditoriale, il come lo facciamo è assolutamente determinante, a mio avviso forse ancora di più certe volte il cosa. Ma peraltro la banca che citavamo prima, cioè Banca Etica, ha dimostrato che il come erogo prestiti, che è ancora più importante dello strumento finanziario che viene messo in campo, che è tutto sommato abbastanza simile a quello di tante altre banche, comprese le banche armate. E poi c'è un'ultima dimensione che è il key, che talvolta anche può definire un ulteriore campo di analisi, ma anche campo di progettazione. Abbiamo oggi delle imprese che sono agite da soggetti, imprese che sono esclusi tipicamente dal mondo del lavoro, che sono esclusi per esempio dall'accesso a servizi di base, persone che sono escluse anche per esempio dall'educazione o dall'alta formazione e così via. Quindi questi soggetti nel momento in cui diventano imprenditori o imprenditrici, magari appunto determinano qualche tipo di eticità guardando a quell'impresa e possono aiutare appunto a connotare quell'impresa come un'impresa più vicina a un concetto di etica. Il mix tra queste quattro dimensioni, quindi il perché, il cosa, il come e il chi, forse ci aiuta a dare un po' delle risposte all'interrogativo di Ugo. Oggi peraltro ci sono tantissimi esempi, quando io ho cominciato con la mia attività di avanzi, ma anche prima veramente si faceva molta fatica e tutti ci aggrappavamo, ricordo, ad Adriano Olivetti, che poi è tornato in grande auge, ma Adriano Olivetti tutto sommato produceva macchine da scrivere e poi qualche embrionale computer, quindi se guardiamo al cosa forse non era particolarmente innovativo, chiaramente ha innovato molto il come, per esempio il tema del salary gap l'aveva trattato in maniera molto originale e anche in maniera molto molto ben definita, ma il come veniva declinato appunto da quella impresa straordinaria che era l'Olivetti di Adriano, anche nel senso di sguardo alle comunità locali, sguardo alle famiglie dei dipendenti, come empowerment delle persone, come spazio di contaminazione tra attività industriale e la cultura nelle sue tante sfaccettature. Quindi c'era qualche esempio, pochi in verità, o forse erano meno noti, oggi ne abbiamo moltissimi e quindi l'esercizio di valutare, ma non tanto per diventare dei giudici, ma quanto per forse anche plasmare la propria attività di tutti i giorni, che può essere imprenditoriale o imprenditiva, credo che gli stimoli siano moltissimi. Senti, però per fare, forse a volte, a meno le conversazioni che abbiamo avuto, giustamente hai posto l'accento sul fatto che fare l'imprenditore presuppone comunque delle attitudini, delle attenzioni, delle capacità che forse bisogna esplorare meglio, perché a volte, soprattutto in certi mondi, magari spinti dalla voglia di fare qualcosa di utile, si guarda molto all'aspetto sociale o etico e si tende a sottovalutare l'aspetto di che cosa sia un imprenditore o appunto un'imprenditrice. Ci puoi dire qualcosa? Beh, indubbiamente è un mestiere complesso, articolato. Nella mia vita professionale ho fatto, faccio anche quel mestiere lì. Secondo me è un lavoro molto affascinante e che ti pone, insomma, ti sollecita rispetto ad alcune difficoltà, la gestione della complessità, il tenere insieme la visione con la gestione ordinaria e così via. A mio avviso, innanzitutto l'imprenditore è spesso declinato al maschile, abbiamo bellissimi esempi di imprenditrici che tra l'altro hanno una sensibilità spesso molto più forte agli aspetti soft della gestione dell'impresa, che sono tanto importanti quanto quelli hard. E l'altro aspetto, l'altro errore che spesso facciamo è di pensare all'imprenditore, dall'imprenditrice come una specie di dittatore o dittatrice illuminata sola o solo che governa un numero quasi infinito di variabili. Secondo me l'attività imprenditoriale è un'attività invece che si avvale molto e che si alimenta moltissimo dal dialogo, dal confronto, dalla collaborazione, anche dal conflitto all'interno di un'organizzazione e anche ovviamente tra i fondatori. Quando noi facciamo l'attività, per esempio, di incubazione e accelerazione dell'impresa, diciamo alla fine il numero magico è tre. Quindi quando arrivano persone, spesso augurabilmente sono gruppi, queste diciamo è meglio se siano tre, poi se sono quattro va anche bene, se sono due va benino, se una persona sola non va tanto bene. Quindi il solista o la solista non funziona tanto bene, proprio perché la complessità è elevata e perché forse tante attitudini nel percorso, nel viaggio dell'impresa, tante attitudini devono necessariamente mischiarsi perché ci sono dei momenti in cui la visione è straimportante, ma è molto importante la gestione ordinaria, dei momenti in cui ci sono delle questioni molto spinose sul tavolo, degli elementi di visione bisogna forse un po' metterli da parte e così via. Poi mi viene da dire che nell'attività imprenditoriale ci sono, come in tanti altri lavori, dei momenti estremamente difficili, anche sotto il profilo psicologico, e quello che ti tiene lì, che ti dice non mollare, prova a risolvere i problemi, a mio avviso è proprio il rapporto con gli altri, che siano quelli dentro o quelli fuori, quindi l'impresa, anche come soggetto politico, se vogliamo, e quindi come soggetto che ha una responsabilità nei confronti dei propri stakeholder, questa responsabilità l'imprenditrice e l'imprenditore non possono sottrarsi, non devono sottrarsi, e questo forse è anche un pezzo di coraggio, è un pezzo di difficoltà nel mestiere di essere imprenditrici e imprenditori e anche appunto un incoraggiamento, cioè continuare ad essere responsabili credo che poi sia un elemento, un carburante fondamentale per andare avanti e risolvere quel problema. Come stiamo andando insieme io e Matteo scambiandoci delle battute veloci, se c'è qualcuno dall'aula, visto che non sono santi, che vuole fare una domanda specifica, benvengane, potremmo prendere uno o due massimo, però lo facciamo. Io ti volevo chiedere, qual è il momento secondo te più critico in cui si può trovare un'impresa quando decide di operare secondo attenzioni etiche, se è nel momento in cui deve definire il campo in cui interviene oppure quando si trova a fare delle scelte in cui da una parte c'è il risultato magari sociale che vuole raggiungere e dall'altra però c'è un risultato magari economico che rischia di non arrivare. Ti volevo chiedere, insomma, nella tua esperienza quando ci sono i dilemmi, perché poi dopo è facile parlare in generale cose belle, però poi nella concretezza molto spesso si hanno dei dilemmi etici, delle difficoltà che si devono affrontare. Se ci puoi fare, se ti viene uno o due esempi. A dilemmi etici ci sono tantissimi e secondo me accompagnano tutto il viaggio imprenditoriale. forse non ci sono dei momenti in cui non ci siano dei dilemmi etici. Pensiamo anche semplicemente alla definizione del prezzo di un prodotto o di un servizio. Che sia un servizio a forte connotazione sociale o che sia un servizio, un cocktail che offre un bar per la sera. Ora, c'è sempre il dilemma etico che riguarda un po' da un lato la remunerazione dei fattori produttivi e dall'altro la responsabilità nei confronti degli stakeholder che stanno fuori. Quindi, già la determinazione di un prezzo è particolarmente spinosa. Noi, per esempio, in ufficio abbiamo un bar-restorante e ricordo delle discussioni molto belle, molto fondative su quale fosse il prezzo da applicare a un pasto. Come nella mia e la nostra storia imprenditoriale, perché questa è un'iniziativa di avanzi, inizialmente ci siamo detti beh, questo è un prezzo eccessivo e noi dobbiamo fare in modo che le persone anche se sono vicino all'università, anche studenti squattrinanti possano mangiare non un piatto di pasta perché non abbiamo la pasta ma una minestra a pochi euro, l'acqua assolutamente gratis senza plastica e così via. E ricordo anche che dopo qualche mese insomma le difficoltà economiche non erano poche, le difficoltà per quadrare i conti e qualcuno ha detto ma non dovremmo mettere magari il coperto, non dovremmo alzare magari il prezzo del piatto base. Questi sono dilemmi molto tipici, bisogna saperli vedere trattare e ancora una volta insisto sul fatto che se sei sola o solo forse questa cosa la puoi fare fino a un certo punto. Devi avere in verità un contraddittorio perché altrimenti come il tuo angolo, il tuo punto di vista diventa quello prevalente, diventa cieco. Di questi dilemmi etici ce ne sono molti altri anche in una fase molto embrionale, molto iniziale d'impresa e non solo questa della formazione del prezzo per una minestra e poi quando un'impresa cresce per esempio rispetto ai temi dell'agilità versus stabilità dei posti di lavoro. Caspita, questo è un temone. È impossibile sottrarsi e far finta che non ci sia per quanto magari oggi l'infrastruttura giuridica nella quale un'impresa opera offre anche molte possibilità di flessibilizzare il costo del lavoro con contratti a tempo con contratti a tempo determinato con contratti intermittenti sono tantissime tantissime forme contrattuali possibili anche se non ci sono i voucher ma ce ne sono tantissime e però non solo un imprenditore o un imprenditrice ma un'impresa nel suo complesso quindi un insieme di persone che svolgono diverse funzioni all'interno dell'impresa a un certo punto deve porsi la questione su appunto quanto internalizzare il rischio o quanto invece scaricarlo sul prossimo sul lavoratore che magari ha una condizione anche di fragilità temporanea derivante per esempio da una maternità o da una paternità quindi i dilemmi etici veramente ne abbiamo tanti mi fa piacere anche guardando insomma il programma che Ugo mi ha passato dal corso che inizia tra qualche giorno che proprio sui dilemmi etici si insiste molto perché è un esercizio quotidiano che va fatto ma si può cominciare a farlo anche un pochettino in vitro ho visto che c'è una mano alzata Lorenzo Lorenzo Vinci che tra l'altro anche lui ha una discreta esperienza di valutazione di imprese con criteri sociali e ambientali prego Lorenzo buonasera buonasera Luca buonasera Matteo un piacere sempre rivedervi e volevo tornare sull'interessante tema che avete toccato prima sulle caratteristiche degli imprenditori barra imprenditrici per sottolineare per chiedervi perdon cosa ne pensavate del fatto che si fa sempre anche troppo poco riferimento all'imprendito al gruppo di imprenditori cooperativi ovvero io sono stato anche amministratore di realtà complesse non enormi comunque abbastanza grandi più di mille soci in una struttura di finanza etica con sede a Torino tanti anni fa dove a me ha colpito in particolare Matteo quello che dicevi tre e non più di tre io mi trovavo bene e sono riuscito a lavorare direi decentemente almeno guardando i bilanci della struttura dell'epoca perché eravamo molti più di tre ma eravamo parecchi e l'intelligenza collettiva è quella a cui io mi affidavo e che ritengo che mi avesse salvato un'altra cosa su cui non so quanto voi riteniate sia importante porre l'accento è legata al fatto che le idee migliori che comunque dal mio punto di vista hanno più probabilità di funzionare sono quelle che coinvolgono i soggetti gli stakeholder sin dalla fase iniziale di nuovo per citare un'avventura che ci ha visti all'epoca partecipare insieme con Ugo per non fare nome alla costituzione di banca etica dove non solo eravamo esponenti di realtà fondatrici molto più grandi dei singoli personaggi io o altri ma c'è stato questo aspetto vincente di coinvolgere i risparmiatori e i prenditori di credito sin dalla fase progettuale quindi cosa ne pensate del sottolineare l'importanza dell'intelligenza collettiva grazie Lorenzo forse ho espresso male grazie per aver sottolineato questa incongruenza io parlavo di un'esperienza diretta dell'incubatore acceleratore dove arrivano dei gruppi poi non vuol dire che alle spalle ci siano molte altre persone però in una fase iniziale adesso permettetemi la semplificazione c'è qualcuno che tira la carretta c'è qualcuno che si sveglia ogni mattina con quel pensiero lì con quell'urgenza poi ci sono tanti altri che supportano quella quell'iniziativa e quelle energie e sono con imprenditori o con imprenditrici a noi non arrivano mille quando facciamo incubazione accelerazione appunto ne arrivano uno due tre quattro cinque qualche volta anche i gruppi più ampi quando abbiamo dei gruppi più ampi ahimè succede che qualcuno si perda per strada quando qualcuno poi molla gli altri dicono ma cosa faccio rimango col cerino in mano però in verità io facevo riferimento provando a tirare fuori quell'esperienza che può essere anche aneddotica per dire uno no non tanti no una persona sola secondo me secondo me anche di fronte ai dilemmi etici di cui parlavamo ma anche rispetto alle difficoltà psicologiche del percorso imprenditoriale forse non si trova con tutti con tutti gli strumenti per 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 gestire quel processo imprenditoriale poi io dico sempre per me fare impresa è un viaggio poi c'è chi ama fare il viaggio da solo no perché o da solo perché così autodetermine il proprio destino personalmente anche quando mi capita di fare un viaggio da solo non lo faccio spessissimo però mi interessa incontrare altre persone quindi in quel viaggio incontrare altre persone condividere magari fare un pezzo di strada insieme o ridefinire la meta mi sembra molto intrigante no quindi anche lì viaggio viaggiare in gruppo è una cosa che ti espone dei compromessi una talvolta però è di una ricchezza straordinaria quindi non volevo assolutamente sminuire il ruolo del gruppo di intelligenza collettiva mi piace anche quella cosa che dicevi rispetto alla coinvolgimento degli stakeholder degli utenti e così via in tanti iniziati imprenditoriali che vediamo questo è implicito o esplicito dico implicito perché forse ancora una volta abbiamo uno sguardo miope o abbiamo un forte bias però quando vediamo progetti in cui c'è una fortissima intenzionalità sui temi ambientali e sociali è abbastanza frequente che questa intenzionalità sia una risposta a delle ferite talvolta anche delle ferite davvero profonde adesso non voglio fare 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 degli esempi perché e suscitare un facile pietismo però delle ferite profonde che hanno segnato la vita di una persona e quella persona vuole trovare una soluzione affinché quelle ferite si rimarginino o non si presentino più per nuovi soggetti questo è un coinvolgimento se vogliamo implicito di possibili utenti di quel particolare servizio di quel particolare prodotto ma talvolta appunto il coinvolgimento è molto esplicito nel settore della cooperazione per esempio le cooperative di consumo sono il classico esempio di coinvolgimento anche diretto immediato e immediato nel senso anche di non mediato di soggetti che sono poi beneficiari di quel servizio sì io penso anche diciamo c'è un tema del i proverbi ora scusa non vi sembra una banalizzazione proverbi dice chi fa da sé fa per tre in realtà l'esperienza di chi ha avuto esperienze cooperative che hanno funzionato è proprio con gli altri che si raggiungono risultati c'è una matematica diversa uno più uno fa quattro insomma una cosa del genere ecco proprio perché c'è una matematica diversa non bisogna però quando si fa impresa in modo collettivo e con altri sottovalutare l'importanza della costituzione del gruppo della definizione chiara degli ideali che si vogliono perseguire perché se è vero che uno più uno fa quattro è anche vero che a volte basta un cinque meno uno per fare due perché i potenziali conflitti che si trovano all'interno di un gruppo dirigente o di un gruppo cooperativo se non risolti possono portare possono portare veramente a una demotivazione demotivazione generale questo lo dico semplicemente per dire ecco se dovessi dire in una parola che cosa stare attenti quando si fa un'impresa collettiva quindi cooperativa bisogna avere cura molta cura di come si costruiscono i processi tra le persone che hanno deciso di fare questo questo cammino insieme perché se si approccia l'ho visto anche fare quando quando a qualcuno è stato tra virgolette imposto di fare un lavoro cooperativo se si approccia la cooperativa con l'idea imprenditoriale singola del mio interesse senza diciamo temperarlo con quello degli altri o anzi vedere la possibilità di unirla a quella degli altri si possono avere dei portocircuiti non di poco conto ecco questa è l'unica cosa che mi sento di dire però concordo assolutamente che se si fa attenzione a queste cose beh anzi può essere anche che l'indirizzo etico che viene dato di solito rimane molto più stabile ad esempio in una cooperativa dove cambiare l'indirizzo etico è molto più complesso che in una SPA o una SRL in cui l'amministratore può decidere di cambiare o i pochi soci possono decidere di cambiare linea ecco una cooperativa è decisamente più stabile da questo punto di vista aggiungo una cosa Ugo proprio sul connotato etico o la dimensione di intenzionalità sociale o ambientale nell'organizzazione per quello che ho visto nella maggior parte dei casi forse stragrande ma in maggioranza dei casi quell'afflato che è un afflato iniziale quella fiammella che non bisogna spegnere anzi bisogna molto proteggere e preservare cioè di provare a risolvere qualche problema della collettività e magari anche dandosi delle regole per fare l'impresa per usare anche uno dei termini che ho usato all'inizio per essere innovativi sul come fare l'impresa quindi non solo sul contenuto ma diciamo la dimensione del contenuto è una dimensione che è un collante straordinario forse non ci sono e anche il denaro vale meno vale molto meno cioè le persone molto più spesso stanno insieme o sono attratte e sono avvicinate a un progetto si avvicinano a un progetto imprenditoriale perché c'è un senso dell'agire nella cultura anglosassone adesso c'è un po' un abuso del tema purpose ma il senso dell'agire cioè un'organizzazione che abbia un senso dell'agire un'organizzazione che a parità di altre condizioni a mio avviso resiste ai terremoti ha appunto dei legami molto forti sia bonding che bridging tra l'altro sono legami ma soprattutto quelli bridging sono dei legami molto forti quindi ha un capitale sociale per usare un termine che non va confuso col capitale sociale della cultura dell'economia aziendale ma ha un capitale sociale molto forte questo capitale sociale secondo me è il più grande asset che un'organizzazione può avere ci sono tuttavia dei casi in cui a mio avviso e bisogna pure stare attenti a mio avviso questa bandiera ci occupiamo dei problemi dell'umanità è come una sorta di alibi come dire schiacciamo altri portatori di interesse magari anche altri soci o collaboratori perché ci stiamo occupando di quel problema sociale e quindi quello diventa quasi una se vogliamo una foglia di tipo però io posso dire che per la mia esperienza che è lunga ma non è basta come quella di Ugo o di Lorenzo che ha preso prima la parola in verità appunto questo agisce molto più come collante come presupposto importantissimo dello stare insieme piuttosto che come un'altra bene siamo arrivati al nostro tempo abbiamo promesso di fare una cosa semplice veloce di 30 minuti speriamo speriamo siamo riusciti a incuriosirvi sul tema forse non a darvi tante risposte ma magari alcuni spunti di riflessione d'altra parte in 30 minuti non si può fare molto di più non mi pare di aver visto altre mani alzate e quindi io vi saluterei a nome della scuola e a nome appunto di ringraziandovi per la partecipazione Matteo ti unisci ai saluti ovviamente sì bene io spero grazie mille grazie alla scuola fateci sapere se vi è piaciuto in qualche modo quindi dateci un ritorno in qualche maniera va bene grazie a tutti grazie ciao 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 ciao